Ciao a tutti, questa mattina registrando il video su Gagliardini, il secondo atto con la sua replica, a mio modo di vedere, assai ridicola, mi è venuto in mente un qualcosa che farei se vivessi nello spogliatoio della Juventus. Spogliatoio, soprattutto a determinati livelli, ma non solo, è sacro. Ciò che accade nello spogliatoio resta nello spogliatoio, non ciò che fai davanti a 3000 telecamere e hai anche la presunzione che evidenti gesti possano rimanere nell'oscurità. Più penso a come Gagliardini abbia vissuto l'1-1, cosa abbia fatto e come abbia gestito il post partita e più trovo che sia davvero una somma di errori pazzesca, però sarò fatto male io. Vi dicevo, se io fossi nel mondo Juve, quello che conta presso le stanze segrete, io stamperei immediatamente quasi una gigantografia dell'esultanza provocatoria di Gagliardini nei confronti di Rabiot, la appenderei nel muro e cercherei poi davvero di caricarmi con quell'immagine, partita dopo partita, fino al termine della stagione. Perché l'esultanza di Gagliardini, al di là dell'atto in sé demenziale, del gesto in sé demenziale, deve lasciare qualcosa. Deve far capire a tutti i calciatori da Juventus, dal più utilizzato a quello che finora ha fatto zero minuti, che per determinate squadre, per determinati calciatori, in determinate piazze, infliggere un dispiacere alla Juventus non rappresenta molto, bensì tutto. E l'esultanza di Gagliardini è fedelissima a questa corrente di pensiero, la sposa totalmente al 101%, quindi io sono convinto che poi all'interno di uno spogliatoio qualche immagine venga stampata per caricarsi e per non dimenticare, perché sì, ci sono episodi a livello di campo che restano lì, che magari non emergono neanche agli occhi dei poveri mortali come noi, ma che vanno a segnare un po' nella testa, nell'umore, i calciatori. Parlavo con un ex giocatore della Juventus che mi aveva raccontato che in determinate stagioni con un allenatore, e comunque tra i vari muri dei vari spogliatoi, delle varie aree segrete, venivano appese delle immagini che potessero caricare e far non dimenticare, perché ci sono delle cose che magari te le segni e quando ritrovi i tuoi avversari ti fai rispettare, in maniera sempre lecita, lungi poi da me voler incentivare diciamo alla violenza e quant'altro, no, però nel campo esistono anche i modi contemplati dal regolamento per farti rispettare. E quindi quell'immagine di Gagliardini nell'1-1 per me deve diventare il manifesto, il manifesto della stagione, guardare quell'immagine, osservarla, cercare anche un po' di contemplarla e andare avanti, andare avanti partita dopo partita, partita dopo partita, perché come vi ho detto ci sono delle piazze che non vedono l'ora di regalare un dispiacere alla Juventus e ai suoi tifosi. Battere la Juventus per determinate città e l'obiettivo stagionale, ancora prima della salvezza, ancora prima dell'Europa, ancora prima di uno scudetto, ancora prima di un percorso tranquillo. Battere la Juventus, questo è, questo è e quindi spero davvero che anche il gruppo, eccezione fatta per Rabiot, che sicuramente seppur con il suo stile si sarà segnato quell'episodio, lo abbiamo capito con grande intelligenza come l'abbia fatto con quel post, quell'Instagram story che ho trovato sublime, però spero che anche i compagni di Adrienne capiscano o abbiano capito definitivamente come si cerchi sempre di ostacolare questo carro bianco-nero, anche con atteggiamenti provocatori e poi non consoni, soprattutto se parliamo dell'elite del nostro campionato. Venendo al campo, iniziando a mettere nel mirino la partita con il Napoli, che sarà davvero complicatissima, specialmente perché Mazzarri è un tecnico preparato e che sa neutralizzare gli avversari, magari non proponendo un calcio champagne, un po' come succede con lo stesso Max Allegri, ma sempre con un'identità ben definita. A livello di formazione io non è che mi aspetti grandissimi cambiamenti, ci sono due calciatori che secondo me molto probabilmente partiranno dall'inizio o comunque l'obiettivo è quello, Danilo e Locatelli. Danilo ha fatto anche un rodaggio con il Monza, non giocava un bel po' di tempo, serviva uno da mettere davanti alla difesa perché Loca ha davvero stretto i denti per i minuti di recupero, ma aveva dolore. Mi hanno raccontato che avesse più dolore pre Monza rispetto alla gara con l'Inter e infatti Allegri in maniera molto saggia con il Monza non l'ha fatto giocare, la salute dei giocatori prima di tutto e di tutti. Però Loca speriamo che possa sentire meno dolore in vista della partita di venerdì, perché è vero che Hans ha fatto un partitone nel primo tempo con il Monza, insomma ha fatto una bellissima partita, poi è un po' calato di rendimento, anche di lucidità perché non ha l'abitudine di giocare a determinati livelli per tantissimi minuti, però Hans ha fatto una buona partita, una buonissima partita con il Monza, vedi anche l'assist. Ma inserire in questa squadra Danilo, da capire dove, e Locatelli è comunque un doppio upgrade. Danilo, ora bisogna capire se vuoi puntare sul capitano a sinistra, anche se Alexandro mi sembra che a Monza abbia giocato bene, in tanti eravamo spaventati, io per primo, che Alexandro potesse tornare tra i titolari dopo che non giocava dall'inizio ad agosto, da fine ovviamente il suo, ha tratti anche meglio degli altri. Gatti cosa fai? Lo togli? Gatti in quel di Monza ha sbagliato un gol fatto nel primo tempo, non ha letto bene quella palla dell'1-1, che però l'errore degli errori lo fa Ken, quella palla se sei fresco non può mai partire nella vita, e poi il concorso di colpe tra Gatti e Chesney non era facile a gestire. Poi Gatti ha fatto gol, insomma, alti e bassi, più partite all'interno della stessa partita, ma ad oggi sembra un fattore, cioè anche a livello comportamentale, no? Di attributi, togliere Gatti non è semplice. Però, raga, è meglio avere due soluzioni in più che due in meno, e che soluzioni perché sia Danilo che Locatelli sono giocatori d'esperienza, e l'altro dubbio è capire se UEA riuscirà ad andare in panchina. Questa settimana mi era stato detto che sarebbe stato rivalutato, quindi vediamo, ovvio dall'inizio direi di no. Tra l'altro a destra, amiche e amici, mi sta piacendo molto Cambiaso. Mi sta piacendo molto. Nel primo tempo di Monza è stato probabilmente il migliore a livello di letture, perché è entrato in mezzo, ha fatto da mezz'ala aggiunta a livello proprio di possesso, come fonte di gioco, si è procurato rigore, è stato scaltro ad andare e ad attaccare lo spazio e poi prendere il tempo su Chiriacopulos. Cambiaso a destra può rivelarsi anche qua tanta roba fino a fine stagione, cioè non spremere oltre misura McKennie, farlo giocare un po' più nel suo ruolo e al tempo stesso lavorare su queste caratteristiche di un ragazzo che dove lo metti non solo sta, ma fa, cioè gioca bene, gioca con intelligenza. Però intanto stampiamo questa immagine e prendiamo nell'espositorio.